Allora, ieri abbiamo visto un'altra performance di Giletti, no? Che continua ad avere sempre binocoli in una direzione e non vede un prete nella neve delle altre parti, no? Allora, lasciando perdere un po' tutta questa situazione qua, che alla fine c'è stato un errore tra le segreterie, probabilmente, no? Quindi qualcosa è andato storto tra le comunicazioni del DAP e il magistrato di sorveglianza. Chissà perché, poi alla fine succede sempre che comunque qualcosa va storto quando c'è qualche ministro del Movimento 5 Stelle, tutti riescono a vedere bene cosa succede, e quando invece succedono altre cose che sono successe in Italia, il signor Giletti non ne parla mai. Va bene? Allora, veniamo un po' subito a qualcosa di veramente pesante. Lo scandalo al CSM. Parliamo un po' di questa roba qui, perché non se ne parla mai di questa roba qui. Allora, cos'è successo al CSM, a farla breve? In pratica è successo che è venuto fuori che la politica nominava capi dalle procure, va bene? Cosa che non dovrebbe essere di sua competenza, perché la politica è il potere legislativo ed esecutivo, e non dovrebbe avere niente a che fare col potere giudiziario. Però qui invece nello scandalo al CSM è tutto sottaciuto, non ne ha parlato mai nessuno di questa roba qui, no? Ha scoppiato lo scandalo col Trojan di Bonafede, quindi del nostro ministro di grazia e giustizia attuale, che ha dato potere alla magistratura di finalmente poter prendere le intercettazioni ambientali, che non è una cosa che doveva essere già fatta questa roba qua, no, è dovuto arrivare questo ministro qua a prendere le registrazioni ambientali, mentre prima potevano essere soltanto prova di indagine per i magistrati per continuare l'indagine, adesso finalmente si possono portare in aula, va bene? Quindi tramite questo Trojan, questo cavallo di Trojan che si può mettere dentro il cellulare, adesso i cellulari possono diventare anche delle ricci trasmittenti, e le prove delle intercettazioni finalmente si possono portare in aula come reato. Sarà una cosa normale? No, prima non si poteva fare. Giletti, quando è che le spieghi sta roba qui? Non la spiegare mai, non ti preoccupare, continua a fare il tuo servo come stai facendo. Quindi cosa è successo? Scandolo CSM, Palamara, l'ex capo del CSM, parlava allegramente con politici, andavano a cena, cosa che non si può fare, è come se l'arbitro andasse a cena con i giocatori di una squadra, ma di che cosa stiamo parlando? E invece succedeva, andava avanti da dieci anni, come ha riportato anche un articolo del Fatto Quotidiano, gli altri non lo scrivono sta roba qui. In Italia non esistono i partiti, esiste un sistema e un antisistema. L'antisistema è il Movimento 5 Stelle, che è entrato dentro questo sistema e sta cercando di mettere un po' d'ordine, solo che questo sistema ha televisioni e giornali, e quando vede che arriva questi signori qui del 5 Stelle dentro a cercare di correggere le loro porcate, ti fanno o i tranelli, ti fanno dei tranelli, e poi quando riescono a trovarti il tranello, acchiappano i giornalisti, ti sparano in televisione, ti fanno passare da un coglione. Questa è la mia opinione, di quello che ho visto io, e che continuo a vedere. Ma c'hai le prove, Daniele, di questa roba qui? Certo che sì! Allora entriamo un attimo in un discorso che avevo accennato l'altra volta in un altro video, l'arresto di Marcello De Vito. Chi è Marcello De Vito? Marcello De Vito è il numero 2 della Raggi, il presidente del Consiglio Capitolino, quello che presiede l'Aula dentro il Comune di Roma. Va bene? Scoppia lo scandalo delle tangenti allo stadio della Roma, arrestano l'imprenditore Parnasi, che praticamente poi viene fuori dalle indagini che aveva, è ancora sotto indagine, non è questa cosa qua, è sui giornali, non sono mie illazioni, per qualche oscuro motivo è venuto fuori che il tesoriere della Lega, Centemero, e il tesoriere del PD di allora, o non so se ancora adesso, Bonifazi, presero 150 e 250 mila euro di mazzette. Va bene? Cosa successe però poi a quel punto lì? Successe che in galera ci finì invece Marcello De Vito. Marcello De Vito, ok? Perché? Perché praticamente su tutte le televisioni venne fuori che lui stava architettando qualcosa su una telefonata, congiunzioni astrali, cioè non c'era niente di concreto, non c'erano delle dichiarazioni o delle indagini da parte di PM che dicevano che addirittura avesse pagato i tesorieri della Lega e del PD, che sono una cosa unica, non esiste la Lega e il PD, esiste un sistema, questa gente qua fa parte di un sistema che si è mangiata al paese, che si dividono tra Lega e PD e poi quando li arrestano al Mose li hanno arrestati tutti quanti, centrodestra e centrosinistra. All'Expo, a Milano, hanno arrestato centrodestra e centrosinistra. Scandali alle banche, ci sono finiti di mezzo tutti quanti. Quindi è una palla sta roba dei partiti, non è vero, non esiste.